Partenza valida per quanto riguarda i primi frazionisti di questa seconda serie con la Prosesto, l'Atletica Lecco, la Vallese, l'Atletica, l'Atletica Gavenante, l'Atletica Bergamo, l'Atletica Cento, Torri, Valia. Passaggio dal primo al secondo frazionista, completato da tutte le spade. Per quanto riguarda la seconda e la terza frazionista, Corsia a 6, a 103 ordini, Valia, sta volando, vediamo il dietro di Corsia centrale, Valia, la nostra voce, ed era in Corsia, proviscivino in Corsia 3.